Oh, Matteo! Buongiorno! Buongiorno! Grazie di essere venuto. Aspettami che scenda. Stiamo restaurando questo rustico perché Clara vuole farne un centro di rappresentanza dei nostri vini. Vieni, sediamoci. Certo. Ah, ho saputo del tuo investigatore. Mi dispiace tantissimo. Era sparito da due settimane. Una morte assurda. Poverino. Adesso devi cominciare da capo per trovare tuo padre. Già. Vieni, sediamoci. Certo. Parliamo di cose belle. Certo. Le bombonie. Sì. No, è perché io non so quali scegliere. E Clara si rifiuta di aiutarmi. Io mi fido del tuo gusto. Per me va bene qualsiasi. Ma che le scelgo io? Certo. Bene, allora hai deciso. No, 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 aspetta. I fiori. Ah, i fiori. Perché sarebbero molto adatte le azalee perché la chiesa è medievale. Sì, beh, se la chiesa è medievale penso sia... Pronto? Sì. Sì. Beh, no. Sì. Ma lei mi promette che rimane tranquillo? Va bene. Sì, sì. Ok. Qualche problema? Nessun problema. È un cliente, devo scappare. Ma i fiori? I fiori, le azalee. Sono i medievali. I medievali perfetti. Sì, perfetti. Ciao. Stai ragazzi. Grazie a tutti.